Video di medicina dall'Italia alla Cina A cura del dottor Lucio Sotte visita il sito internet www.luciosotte.it per informazioni su Avopuntura Medicina Cinese Medicina Integrata In questa terza lezione del corso di introduzione alla dietetica tradizionale cinese affronterò l'argomento dei lipidi i lipidi che sono sostanze insolubili in acqua e solubili in solventi non polari dai grassi come l'etere, l'acetone, il cloroformio, la benzina sono sostanze molto meno dense dell'acqua per cui acqua e lipidi messi insieme hanno i lipidi che galleggiano sopra l'acqua e si tratta dei grassi alimentari che rappresentano nell'alimentazione una forma molto concentrata di energia immagazzinata immagazzinata nel tessuto di poso, immagazzinata nel sottocute ma hanno anche funzioni strutturali per esempio partecipano alla formazione delle membrane cellulari hanno funzioni a livello nervoso, le prostaglandine sono dei lipidi a livello endocrino gli ormoni in questa slide vediamo un riassunto di tutto ciò che accade per i lipidi all'interno del nostro organismo i lipidi comprendono fosfolipidi, trigliceridi e steroidi i fosfolipidi contengono fosforo ed entrano nella costituzione delle membrane biologiche per il 40% formando un doppio strato che costituisce la parete cellulare per quanto riguarda i trigliceridi i trigliceridi costituiscono il 95% dei grassi presenti nel corpo dunque sono molto abbondantemente rappresentati e demoliti forniscono grandi quantità di energia soprattutto a cuore e muscoli sono formati da glicerolo a cui sono legati degli acidi grassi che possono essere saturi o insaturi quelli saturi sono solidi a temperatura ambiente e si ritrovano generalmente nei grassi animali il burro, lo strutto quelli insaturi sono più digeribili a temperatura ambiente sono liquidi e si ritrovano nel pesce che perciò risulta più digeribile della carne e nei grassi vegetali, cioè negli oli gli esteroidi comprendono il colesterolo la vitamina D, gli ormoni, i sali biliari il colesterolo è presente nelle membrane biologiche la vitamina D, se carente, provoca rachitismo gli ormoni hanno funzione regolatrice sul funzionamento dell'organismo e i sali biliari favoriscono la digestione dunque, riassumendo i lipidi, che si possono definire anche grassi rappresentano nella cucina delle sostanze di condimento particolarmente importanti che apportano le vitamine liposolubili come la A, la D, la E, la K sviluppano 9 kilocalorie per ogni grammo quindi molto di più che non i carboidrati 3,8 kilocalorie o le proteine 4 kilocalorie e debbano rappresentare circa il 25% delle calorie introdotte con la dieta si distinguono dei lipidi semplici e i lipidi semplici sono dei lipidi con catena molto corta i trigliceridi, grassi animali ed oli vegetali in cui c'è una molecola di glicerolo e tre molecole di acidi grassi che a loro volta si distinguono in saturi tutti gli atomi di carbonio sono saturati da atomi di idrogeno-ossigeno ad esempio l'acido butirrico del burro monoinsaturi quando manca un atomo di idrogeno e due atomi di carbonio sono legati da un doppio legame come accade per esempio nell'acido oleico dell'olio di oliva o poliinsaturi perché mancano più atomi di idrogeno e più atomi di carbonio sono legati da un doppio legame ad esempio quel che accade nell'acido linoleico dell'olio di semi e poi abbiamo le cere e i tirpeni per quanto riguarda sempre i lipidi semplici quelli di cui abbiamo parlato fino ad ora abbiamo detto che si distinguono in grassi saturi perché a temperatura ambiente hanno consistenza solida e sono generalmente di origine animale oppure grassi insaturi perché a temperatura ambiente hanno consistenza liquida gli oli e sono generalmente di origine vegetale abbiamo poi i lipidi complessi e poi i lipidi derivati e tra i lipidi complessi dobbiamo ricordare i fosfolipidi che partecipano alla formazione delle membrane cellulari e gli sfingo fosfolipidi del tessuto nervoso tra i lipidi derivati gli steroidi come il colesterolo che è un componente essenziale delle membrane cellulari precursore di molti ormoni della vitamina D3 e degli acidi biliari i lipidi nell'alimentazione nei primi mesi di vita vengono utilizzati dei lipidi animali sono quelli presenti nel latte poi per quanto riguarda l'alimentazione nei mesi successivi e negli anni successivi nei popoli nordici c'è certamente una prevalenza di lipidi animali mentre nei popoli mediterranei una prevalenza di lipidi vegetali ovviamente c'è da dire che l'eccensivo consumo di lipidi porta ad accumulo del tessuto a riposo il che comporta anche un rallentamento della digestione gastrica e un rallentamento dell'assimilazione dell'alcol abbiamo già detto in precedenza che i lipidi forniscono 9 kcal per grammo il che significa che rappresentano nell'apporto calorico un apporto doppio più che doppio rispetto a proteine e carboidrati per quanto riguarda i lipidi nella alimentazione in alcuni casi essi sono particolarmente visibili perché li osserviamo nei nostri alimenti il burro, la panna, l'olio, la margarina lo strutto, la pancetta sono dei grassi visibili e poi abbiamo dei grassi invisibili sono quelli presenti nel latte nella carne magra l'8% della carne magra è data da grassi e poi quelli presenti nei formaggi nelle noci, nei semi, nelle olive per quanto riguarda le fonti le fonti di grassi saturi sono latte derivati carni, torlo d'uovo olio di cocco e palma burro di cacao e margarine i grassi mono insaturi l'olio di oliva i grassi poli insaturi salmone, sgombro, aringhe e poi vari oli di semi come per esempio l'olio di mais di girasole dal momento che un grammo di lipidi sviluppa 9 kilocalorie un chilogrammo di tessuto adiposo equivale a 9000 kilocalorie vediamo ora alcune immagini che riguardano alcuni oli dunque dei lipidi osservati dal punto di vista della dieta etica cinese qui abbiamo per esempio in alto l'olio di arachide che come vedete ha natura neutra sapore dolce e si indirizza a polmone, stomaco e intestino grasso l'olio di arachide l'olio di arachide fortifica il giaomedio sostiene il C umidifica il polmone favorisce la salita del C è un antiparazzitario intestinale e ha un'azione anti-ipercolesterolemizzante dunque trova indicazioni in molte patologie come per esempio l'anoressia la debilitazione l'ipogalattia la stipsi correlata a secchezza intestinale e poi disturbi respiratori con tosse, voce rauca con secchezza di polmone dolori addominali e ipercolesterolemia l'olio di girasole a differenza dell'olio di arachide ha natura tiepida quasi calda sapore dolce e insipido e il tropismo si verifica nei confronti di polmone e intestino grasso dunque a differenza del precedente che ha natura neutra questo di suo senza che sia riscaldato durante la cottura a natura tiepida quasi calda quindi sarà indirizzato in particolare il suo uso a persone che abbiano deficit di yang o segni di freddo ha la caratteristica di nutrire l'oino umidificare la secchezza e avere azione anti-ipercolesterolemizzante si usa nelle stipsi della secchezza nella secchezza delle mucose respiratorie nell'ipercolesterolemia e nella parassitosi intestinale vediamo altri due oli che vengono utilizzati l'olio di oliva e l'olio di sesamo come vedete anche qui c'è una differenza che riguarda la natura perché mentre l'olio di oliva ha natura neutra l'olio di sesamo ha natura fresca il sapore è dolce per entrambi ma il tropismo è diverso rena e fegato per l'olio di sesamo milza panca verso stomaco e fegato per l'olio di oliva l'olio di oliva sostiene il ci umidifica e tratta la secchezza ha un'azione delicatamente lassativa purifica moderatamente il calore anche se è di natura neutra specie a stomaco e fegato e ha un'azione anti-ipercolesterolemizzante l'olio di sesamo che viene molto utilizzato nella cucina cinese come condimento finale di molti piatti umidifica sostenendo gli innesangue ha un'azione lassativa rinfresca il sangue purifica il calore ovviamente perché è natura fresca ha un'azione disintossicante e anti-ipercolesterolemizzante affrontiamo ora l'argomento delle proteine o protidi che sono sostanze fondamentali dal punto di vista strutturale e rappresentano l'impalcatura delle cellule sono costituite da quattro bioelementi carbonio azoto ossigeno e idrogeno nelle percentuali relative del 50% 15-20% 20-25% 6-8% le proteine sono certamente meno importanti di glucidi e lipidi dal punto di vista energetico perché il nostro organismo per produrre energia sfrutta soprattutto i glucidi ed eventualmente i lipidi e hanno natura proteica gli anticorpi dunque la nostra immunità si regge su delle proteine gli enzimi i nostri processi metabolici si reggono sulle proteine alcuni ormoni dunque le proteine garantiscono un buon equilibrio endocrino e poi alcuni elementi del plasma per quanto riguarda le calorie sviluppate dalle proteine sono 4 per ogni grammo simili dunque a quelle dei carboidrati 3,8 ma meno della metà di quelli dei lipidi 9 kcal si dice che generalmente le proteine debbano rappresentare il 10-15% delle calorie introdotte con la dieta parliamo ora dell'azione dinamico specifica degli alimenti e in particolare delle proteine questa viene detta anche termogenesi indotta dalla dieta ed è un fenomeno metabolico per cui in seguito all'ingestione degli alimenti l'organismo produce più energia e quindi consuma di più rispetto alla condizione basale al metabolismo basale l'azione dinamico specifica è differente tra alimento e alimento perché essa dipende soprattutto dalla composizione nutrizionale degli alimenti in pratica l'azione dinamico specifica degli alimenti potrebbe essere definita come l'extra produzione di energia o surplus calorico da parte dell'organismo che è impegnato nella digestione nell'assorbimento nella metabolizzazione dei nutrienti dei cibi per le proteine è il 30% per i lipidi e i glucidi percentuali molto inferiori 2-5% per i lipidi 5-10% per quanto riguarda i glucidi in pratica introducendo 100 grammi di proteine l'introito calorico equivale a quello di 70 grammi perché gli altri 30 grammi sono spesi proprio per l'azione dinamico specifica delle proteine per digerire e assimilare le proteine questo significa che quando si vuole per esempio fare una dieta dimagrante impostare una dieta dimagrante le proteine sono particolarmente utili perché viene introdotto 10 ma in realtà ciò che viene assimilato è 7 perché 3 viene speso appunto per la digestione e l'assimilazione stessa le proteine le proteine sono costituite da catene di amminoacidi gli amminoacidi sono 23 e vengono divisi in due gruppi gli amminoacidi essenziali che sono quelli che l'organismo non è in grado di produrre dunque debbono essere assunti con la dieta sono l'isoleucina la leucina la treonina la lisina la metionina la fenilalanina il triptofano e la valina e poi abbiamo gli amminoacidi non essenziali che invece possono essere sintetizzati dall'organismo a partire da altri composti chimici e dunque non debbono per forza essere introdotti con la dieta qual è il fabbisogno proteico giornaliero si calcola che sia intorno a 0,6 0,9 grammi per chilogrammo di peso corporeo e quali sono le fonti delle proteine vengono sia dal mondo animale che dal mondo vegetale per quanto riguarda il mondo animale la carne il pesce latte derivati del latte ma anche per esempio altri sottoprodotti animali come per esempio le uova per quanto riguarda invece le proteine vegetali una grande quantità di proteine è presente nei legumi lenticchie piselli fagioli fave soia ceci in genere la quantità di proteine presenti nei legumi è intorno al 15-20% in qualche caso anche di più del 20% come accade nella soia poi le proteine vegetali sono presenti nei cereali riso frumento orzo avena ma in quantità inferiori generalmente inferiori al 10% piccole quantità di proteine sono presenti anche nelle noci e nei semi facciamo adesso un esempio di etichetta abbiamo qui l'etichetta delle vongole delle vongole secondo un criterio occidentale in cui vedete ovviamente la quantità di energia la quantità di grassi la quantità di carboidrati di proteine di sali bene sarebbe interessante aggiungere in questo caso anche quel che dice la medicina tradizionale cinese e che cosa dice la medicina cinese che la vongola è leggermente fredda ha sapore dolce e salato si rivolge a fegato e rene e che dunque dal momento che nutre lo yin di fegato e rene ha una buona efficacia nel rischierare la vista ed espellere il calore ed è indicata nei disturbi della vista negli annebbiamenti visivi ma anche nelle vertigini nella cefalea nell'irritabilità nelle vampate della menopausa proprio perché nutre lo yin nella sete e nel diabete facciamo un altro esempio sempre di prodotti ittici gamberi come vedete la dichiarazione nutrizionale dice che c'è una certa quantità di energia 74 chilocalorie di grassi di cui saturi lo 0,7 carboidrati di cui zuccheri proteine e sali ma l'etichetta non dice che i gamberi hanno natura tiepida dunque sono differenti dalle vongole e che si rivolgono a rene fegato milza pancreas e stomaco i gamberi di mare secondo la medicina tradizionale cinese tonificano lo yang di rene per questo motivo risultano attivi nel favorire ovviamente anche l'attività sessuale dal punto di vista della medicina tradizionale cinese vengono utilizzati anche per favorire la montata lattea perché hanno un effetto galattogo dunque quali sono le indicazioni dei gamberi l'astenia la debilitazione fisica ma anche l'impotenza da deficit di rene la diminuzione della libido e poi altri segni di deficit di rene come la lombagia l'abortività da deficit di yang di rene e poi come abbiamo detto l'ipogalattia visto che sono indicati per favorire la montata lattea ovviamente avendo natura calda sono controindicati in caso di eccesso di calore video di medicina dall'italia alla cina a cura del dottor lucio sotte visita il sito internet www.luciosotte.it per informazioni su avopuntura medicina cinese medicina integrata